Finisce 2-1 per i Delfini. L'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, eccellenza. I Delfini in dieci uomini la ribaltano nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara grazie alle reti di Yeboa e Margiotta. Mister Cianfrone cambia molto nella formazione dal primo minuto e lancia subito in campo il classe 2004 Marotta che disputerà un'ottima gara. Il primo squillo della sfida è di soprano per gli ospiti ma cetrangolo è bravo a deviare in angolo. La gara nonostante buoni ritmi non vede grandi palle gol. Al ventesimo i Delfini protestano per un atterramento in area di Yeboa. Situazione analoga al 33esimo con Perretti che trattiene ancora una volta Yeboa all'interno dell'area ma anche in questa circostanza per Oliva non ci sono gli estremi per la massima punizione e questo inoltre l'ultimo squillo della prima frazione. Nella ripresa i Delfini trovano subito la porta con Natiello dopo appena 20 secondi di gioco ma il destro del centrocampista è bloccato facilmente da Giordano. Al tredicesimo si rivede il Napoli United ma il destro di Navarrete è troppo debole per impensierire cetrangolo. Un minuto più tardi però il gol degli ospiti questa volta Navarrete trova la rete dopo un pallone filtrante dal centrocampo partenopeo e supera cetrangolo. In uscita bassa la partita si infiamma e ne fa le spese Soprano centrocampista degli ospiti espulso dopo un parapiglia all'altezza delle panchine. Il Napoli United resta però in 11 giocatori in quanto Soprano era stato già sostituito. Alla mezz'ora restare invece in 10 uomini è l'Agropoli per il doppio giallo a Costantino. I delfini restano vivi e al trentasettesimo della ripresa sfiorano il gol con Natiello ma il numero 10 dei delfini non trova il pallone su un ottimo suggerimento di De Cristofaro. Nei cinque minuti di recupero l'Agropoli ribalta la partita. Al quarantaseiesimo Ieboa supera Giordano dopo una sponda di Margiotta che all'ultimo respiro sigla il 2 a 1 con un colpo di testa su traversone di Natiello. I delfini superano dunque il Napoli United nell'andata di Coppa Italia di eccellenza. Il 27 ottobre il ritorno che deciderà il passaggio del turno.